a 5 centesimi di vantaggio e quindi lo vedremo sciare molto libero chissà però se ha capito già che ha vinto sono riusciti ad avvertirlo al direi di sì, visto come sta sciando come un massimo ma l'organizzazione ha messo a disposizione monitor in partenza io penso che lui abbia capito il tutto ma penso che questo giovane veramente voglia esprimersi anche in questa mancia al massimo effettivamente sta mollando tutto quello che c'è da mollare e lo vedete sciare molto ma molto bene dà proprio l'impressione di essere veloce questo Hannes Reiter senza fare molti movimenti con uno straordinario 1,11,54 ricaccia indietro splendidamente l'attacco di Freddy Niebuhr grazie a tutti grazie a tutti